ben ritrovati di nuovo su review.io oggi vado a recensire per voi questa maniglia per fare l'esercizio del rematore singolo ai cavi o anche altri esercizi sono andato ad acquistarla dalla stessa azienda di cui avevo fatto vedere la recensione dell'attrezzo per fare le braccia questo qui vi lascio in entrambi i casi in descrizione il link per andare ad acquistare i prodotti anche il video recensione dell'altro attrezzo che ho recensito andiamo a vedere insieme il prodotto come vedete è ben fatto la mano ci sta perfettamente anche se ce l'avete grande questa parte ruota fluidamente e avete tutta la parte ovviamente zigrinata la saldatura è ben fatta e qua nel foro potete andare ad attaccare il moschettone iscrivetevi al canale se vi piacciono in questi video a tema un gym ci vediamo alla prossima review